Oggi sono in Riso Graffitalia, la filiale italiana della multinazionale giapponese Riso. Sono insieme a Massimo Mattavelli, che è il direttore marketing di Riso Graffitalia. Grazie Massimo per avermi accolto. Grazie a te, Lorenzo, e benvenuto. Massimo, il mio obiettivo oggi è comprendere meglio e approfondire quelli che sono i fondamenti della vostra offerta, dell'offerta di Riso nel campo delle soluzioni professionali per la stampa, basate sulla vostra tecnologia Inkjet. Ma prima di entrare nel vivo vorrei chiederti di ripercorrere con me e per me quelle che sono state, diciamo, le tue tappe professionali di carriera nel campo della stampa professionale e che cosa ti ha convinto e indotto a entrare nell'organizzazione di Riso. La stampa professionale vera e propria, se vogliamo assimilarla alla stampa di produzione, ritengo, quindi a un discorso di production printing, La incontro esattamente nel 2016 entrando in Riso Graffitalia. La mia esperienza precedente mi ha fatto conoscere tutto un mercato prettamente office, dove quando parlavamo di produttività si parlava di macchine in bianco e nero fino a 100-120 pagine al minuto e per il colore fino alle 70 pagine al minuto, concetto diverso da quello che ho trovato con la produttività dei motori messi a disposizione da Riso. Il perché ho scelto Riso dopo tanti anni di peregrinare in vari brand è la possibilità di avere qualcosa di nuovo da dire e soprattutto di completamente diverso ad un canale che conosco molto bene. Parlare di ink, parlare di tecnologia a freddo, parlare dei vantaggi che questa tecnologia porta ha suscitato in me un interesse molto importante, anche in termini di sfida, perché è un mercato che non conoscevo. Ecco, infatti sin da quando ero ragazzino ho sempre associato il marchio, la targhetta RisoGraph che trovavo sulle vostre attrezzature alla duplicazione, quindi a qualcosa di abbastanza diverso dalla stampa, qualcosa di molto più basilare. Voi Riso non ha mai abbandonato il mondo della duplicazione che fa ancora parte integrante della vostra offerta, ma la tecnologia che avete per le mani oggi è davvero tanto diversa. Puoi aiutarmi a ripercorrere un po' le pietre miliari dello sviluppo tecnologico di Riso? Dobbiamo tornare nel lontano 1946. Il Giappone nel mondo, è appena finita la seconda guerra mondiale, il Giappone è sotto la rigida stretta dell'occupazione americana e c'è una nazione da ricostruire. Nel 1946 viene fondata Riso da parte di Noboru Ayama che ha l'incarico della produzione di materiale didattico per le scuole. E quindi si ingegna come può a cercare di produrre inchiostri e sistemi che consentano di stampare. Il primo passo è quello di una tecnologia prettamente manuale e la possiamo considerare equivalente alla serigrafica. Quindi il concetto di stencil o di master è una stampa manuale. L'esigenza però è la produzione di quantità importanti di documenti e questo sprona il fondatore ad ingegnerizzare il più possibile un sistema da manuale ad automatico. Ecco che negli anni che intercorrono tra i 50 e il 60 comincia a sviluppare il primo concetto di ciclostile, quindi un ciclostile prettamente manuale. Questa è la base di partenza sostanziale. Da questa ingegnerizzazione manuale il passaggio all'automazione, quindi anni 70, anni 80 arrivano dei duplicatori. Da qui il passaggio alla produzione e quindi alla distribuzione a livello globale, siamo negli anni 80, viene raggiunta. Quindi parliamo di duplicatori digitali, quindi con una componente digitale nell'acquisizione, la possibilità di caricare automaticamente il master e di scaricarlo, quindi parliamo di ciclostili evolutissimi. E questo dà un'ampia visibilità a questo marchio, che negli anni si configura tra i leader indiscussi a livello globale. Arriviamo agli anni 2000, l'esigenza della stampa rimane invariata, ma richiede un qualcosa di più flessibile rispetto alla staticità e alla forza riproduttiva del duplicatore. Ecco che nel 2003 viene lanciata per la prima volta la prima stampante digitale a marchio Riso. Test di stampa inkjet, quadricromia, un concetto di stampante vero e proprio, già orientati ad emulare la velocità di riproduzione dei duplicatori. Quindi si parte nel 2003 con stampanti da 90 barra 100 pagine al minuto e ad oggi, 2022, siamo alla settima generazione di stampanti a marchio Riso con tecnologia 4Jet Comcolor. Sebbene non abbia mai abbandonato il mercato della duplicazione, come dicevamo prima con l'introduzione del inkjet, di fatto Riso ha introdotto vere e proprie macchine da stampa nella sua gamma, che prima non c'erano. L'obiettivo era essenzialmente alzare l'asticella nel proprio mercato storico, presso la propria clientela storica, oppure penetrare nuovi mercati, incontrare nuovi profili di clientela? Potrei dire di tutto un po'. Alzare l'asticella, accontentare quelle che erano nuove esigenze provenire da parte del mercato, che per un'ampia parte, soprattutto in relazione ai nostri clienti, non consentiva più di assolvere quelle che erano le esigenze di flessibilità di produzione, mantenendo invariate quelle che erano le esigenze invece magari di velocità e di tipologia di stampa. Questo ci ha consentito sia di accontentare quelli che sono stati gli apripista della nostra tecnologia, quindi utenti già affezionati a un marchio, fidelizzati dall'utilizzo stesso del duplicatore, che hanno approcciato per prima la possibilità di una nuova tecnologia. E in più, nuove opportunità per andare a offrire ad un mercato sempre alla ricerca di soluzioni ideali che ha visto risposte interessanti nei nostri prodotti. Cosa c'è di davvero unico, di davvero originale nella tecnologia Inkjet di Riso? L'unicità che non riscontri in nessun altro brand è la tipologia di ink che viene utilizzato. Un ink registrato, una tecnologia chiamata ForceJet, un ink che ha come base di componente olio. L'olio consente, a differenza di altre tipologie di inchiostro, un'asciugatura istantanea e l'assoluta mancanza di deformazione sul supporto cartaceo. Questo dà un vantaggio sostanziale nella possibilità di utilizzare immediatamente un foglio stampato con la nostra tecnologia. In post-produzione puoi andare in qualsiasi sistema di legatoria piuttosto che in linea con sistemi di imbustamento automatico. Insomma, tutto quello che è consentito da della carta non destrutturata. Fino ai primi anni 2000 la tecnologia Riso è rimasta relegata, lasciamelo dire così, ad applicazioni difficilmente compatibili sicuramente con il mondo delle arti grafiche e in generale con settori, segmenti abituati a un certo livello qualitativo. Qual è stato il punto di svolta? Il punto di svolta nell'approccio del mercato, se vogliamo essere sinceri dal punto di vista applicazioni estremamente grafiche, non c'è mai stato. C'è stata un'evoluzione in quello che è stato il riconoscimento del brand in questo mercato per tipologie di applicazioni che non possono andare con la nostra qualità ad assolvere quelle che sono le esigenze qualitative in settori ben specifici, mentre possono accontentare un'ampia gamma di richieste da parte sia degli stampatori che dei clienti finali. Massimo, se chiedessimo a un tipografo o a un fotolaboratorio o a un'azienda che si occupa per esempio di stampa di mailing, che cos'è la qualità? Che cos'è una qualità elevata? Temo che riceveremmo risposte abbastanza diverse l'una dall'altra. Questo ci fa dire che la qualità resta tutto sommato un elemento abbastanza soggettivo. Qual è, se volessimo definire qual è la qualità del linkjet e qual è in particolare la qualità del linkjet di riso, come potremmo definirla? Sono d'accordo sulla tua analisi della visione della qualità. preferisco uno sguardo da un altro punto di vista. La qualità è tale quando viene assolta la funzionalità. E quindi ritengo che, giustamente come dici tu, parlare di qualità effettiva, quindi, dal punto di vista di uno stampatore fotografico, per esempio, la qualità la troviamo nella risoluzione, nella cromia, nel tono continuo, piuttosto che altre applicazioni che richiedono un'elevatissima qualità. La qualità che possiamo riscontrare nei prodotti riso sta nell'assolvere quelle che potrebbero essere le esigenze di stampatori che hanno bisogno di volumi, di macchine affidabili, con costi gestionali sicuri e una qualità tale che non deprezzi il proprio prodotto. Vale a dire, siamo perfettamente posizionati e in grado di garantire qualità anche per un'editoria scolastica, piuttosto che per un mailing, piuttosto che per produzione di manuali, di moduli, di tutti quei documenti che non necessariamente hanno bisogno di una qualità esasperata. Pensando a un tipografo, a uno stampatore digitale, a un'azienda che collocheremo nel segmento, lasciamolo dire all'inglese, del print for pay, quali sono le applicazioni tipiche, quante grande il range di prodotti che si potrebbero realizzare utilizzando una Comcolor? Utilizzando una Comcolor possiamo parlare di applicazioni trasversali come è trasversale la tipologia del nostro prodotto. La definisco trasversale perché è un prodotto che può stampare da formati minimi che vanno da 9x14 cm a formati massimi che arrivano a 34x55 cm con grammature che possono spaziare indifferentemente dai 40 grammi ai 400 grammi senza che il processo produttivo subisca nessun tipo di variazione. In termini di velocità non abbiamo l'esigenza di fondere niente. La stampa a freddo garantisce la medesima qualità su diverse tipologie di prodotto ed ecco che in questa trasversalità potremo raccogliere tantissimi tipi di produzione o di prodotti. Infatti avrei voluto chiederti quali sono i plus di una tecnologia come Comcolor, di una tecnologia inkjet a foglio rispetto a una tecnologia toner. In parte me lo hai già spiegato, mi hai parlato di similitudini, similitudini di formati, di ampiezza, di grammature. Ci sono altri elementi che a vostro modo di vedere rendono la vostra tecnologia inkjet ancor più vantaggiosa rispetto a... Uno degli aspetti più interessanti che in questi anni ho notato venire recepita in maniera molto positiva legata proprio alla tecnologia della stampa a freddo è innanzitutto un concetto di risparmio energetico che mai come in questo periodo si è fatto estremamente interessante. A parità di produzione possiamo vantare consumi energetici inferiori dell'80% rispetto ad una tecnologia a caldo. Un altro vantaggio sta nella semplicità del nostro prodotto. Una macchina semplice costituita essenzialmente da una gestione software, anche avanzata, ma di fatto basilare al proprio interno. Il concetto di sviluppo e formazione dell'immagine è gestita da una serie di teste di stampa. Abbiamo il 53% in meno di processo all'interno della nostra macchina rispetto ad una tecnologia xerografica. Il 53% in meno di parti vuol dire il 53% in meno di costi di usura, di richieste di manutenzione o di sostituzione di parti senza mai escludere un concetto prettamente green. meno assorbimento di corrente vuol dire meno emissioni di CO2 nell'aria per la produzione della corrente stessa. E non abbiamo emissioni di nessun tipo dai nostri prodotti, non abbiamo emissioni di polvere, non abbiamo emissioni di ozono. Il processo è completamente diverso. Qual è il modello economico di una Comcolor per un imprenditore, per un utente finale che sceglie di acquistarla, di adottarla? Siamo aperti a quello che il mercato richiede, nel senso che tutti i nostri commerciali hanno a disposizione svariate leve e svariate soluzioni. Approciamo la vendita in maniera standard, quindi possiamo accontentare l'esigenza del cliente che vuole una formula all in, quindi il tutto incluso ed una certezza nei costi. moduli. Come invece possiamo avere offerte modulari? Modulari vuol dire con contratti di fatto ad estensione di garanzia, con la vendita semplicemente dei prodotti di consumo, che alla fine è l'inchiostro. Questa si sta rivelando un'ottima formula, anche se in controtendenza, perché offre la possibilità di valutare nel reale che una gestione ponderata porta a significativi riduzioni di costi di gestione. Invece sul fronte dell'utilizzo quotidiano dell'attrezzatura, quindi fronte operatore, quali possono essere o quali sono, a vostro avviso, i principali vantaggi proprio nell'uso quotidiano e anche nei processi di manutenzione ordinaria del sistema? Struttura semplice, soluzione semplice. Questo è banale da dire, ma meno fronzoli, meno aspetti tecnicistici portano ad una conoscenza immediata del bene e alla possibilità di sfruttarlo in maniera molto più elevata. Con questo non voglio dire che parliamo di macchine basiche, parliamo di macchine che hanno nel loro interno tutte quelle che possono essere le soluzioni richieste per le attuali esigenze del mercato della stampa, sia di produzione che per una semplice stampante di work group. Quindi oso dire che anche l'utente meno preparato, meno schillato, è in grado di sfruttare al massimo la tecnologia offerta dai nostri prodotti. integrare un oggetto nuovo, inedito all'interno del proprio reparto produttivo è sempre in qualche modo oggetto di ansia, di preoccupazione per un responsabile di produzione, per un titolare d'azienda. Ecco, in che modo Comcolor si integra all'interno dei flussi di lavoro esistenti di un'azienda di stampa, all'interno degli ecosistemi hardware e software comunemente utilizzati dagli stampatori? Qual è il vostro impegno anche sul fronte proprio delle infrastrutture software, dei software di stampa, per rendere questo sistema pienamente compatibile? Beh, diciamo che ormai è molto tempo che il mercato richiede una sorta di standardizzazione nella produzione e nell'offerta di sistemi di stampa. L'80-85% dell'esigenza di stampa attualmente è standardizzata su file PDF, quindi basterebbe un'integrazione con sistemi software abbastanza performanti per poter gestire anche quantitativi importanti di file. Riso ha stretto accordi con più partner che sono leader nel mercato per l'integrazione, quindi per la produzione di RIP hardware. Dal nostro punto di vista continua una ricerca, uno sviluppo e una proposta di RIP software proprietari. Ad oggi, con l'ultima generazione di Comcolor, siamo alla terza versione. Questi RIP si integrano molto facilmente in tutti quelli che sono gli ambienti produttivi, consentono di supportare quelle che sono le esigenze attuali, per esempio per l'integrazione al 4.0 nell'industria e nella sua evoluzione, con caratteristiche, produttività e costi molto più aggressivi rispetto ai convenzionali. Chi è il cliente ideale di Comcolor? Chi negli scorsi anni ha acquistato queste attrezzature e chi oggi la sta comprando, la sta valutando? Per il discorso approcciato prima, grazie alla trasversalità non escludo nessun tipo di cliente che è ottimale per il nostro prodotto. Ritengo però che tutti, chi ha di integrazione, chi ha supporto della propria struttura abbia esigenze diverse che probabilmente non sono supportate da attuali prodotti che hanno a disposizione, può trovare delle risposte in termini di produttività, velocità e di un nuovo tipo di tecnologia che mettiamo a disposizione. Quindi tutti quegli utenti che hanno la possibilità di sfruttare i vantaggi e le caratteristiche che ti ho elencato precedentemente. Ultimamente stiamo ricevendo manifestazioni di maggiore interesse proprio da chi ha esigenza di stampa nel breve tempo, vale a dire chi ha pochi giorni per la consegna di una commessa. Un esempio pratico sono tutte le società di utility che hanno l'esigenza di raggruppare il dato, renderlo stampabile, stamparlo, imbustarlo e spedirlo. Sfruttano al massimo tutte quelle che sono le caratteristiche principali dei nostri prodotti, vale a dire la velocità, la possibilità di gestire immediatamente il foglio stampato, quindi l'imbustamento anche online e la spedizione. Questo tipo di applicazione sta creando molti interessi intorno alla nostra tecnologia. e anche supportato dai volumi è in grado di fare investimenti importanti nel giro di breve e in breve tempo recuperare quelli che sono gli investimenti. Senti la voglio estremizzare, alle tue spalle vedo un range di grammatura che va da 46 a 400 grammi su metro quadro che è una forbice ampissima, 400 grammi è cartoncino. Esistono declinazioni possibili dell'uso di com color in campo cartotecnico per esempio? Non ne vedo il limite, ti direi perché no. Parlare di cartotecnica agganciato alla stampa, sto vedendo un'evoluzione nel settore packaging che è bellissimo da seguire in termini di risultati qualitativi, cromia, effetti. Ecco, non è quello che ci appartiene. Però in ambito cartotecnico o imballaggi, stampa su supporti pesanti come hai citato poc'anzi, l'esigenza di stampare in un'ottima risoluzione QR code piuttosto che codice a barre, piuttosto che indirizzi o informazioni di riferimento, ecco questa potrebbe essere una delle applicazioni che ci potrebbe vedere protagonisti. Parlavi prima di una caratteristica della vostra tecnologia Inkjet che è l'utilizzo di una chimica a base olio. Questo in qualche misura amplia la gamma di supporti stampabili al di là della carta, a di là di quindi carta, cartoncino e supporti che abbiano questo tipo di base. Purtroppo no, ci limita un po', ci dà grandi aperture sul concetto del non alterare minimamente il supporto che andiamo a utilizzarlo anche su grammature bassissime. Ci limita invece in quelli che sono tutti supporti tra virgolette chimici. Quindi non posso stampare su supporti che non abbiano un minimo di assorbenza. Quindi mi devo dimenticare supporti plastici, carte trattate e quindi lucidate che non mi garantiscono quello che ti ho appena citato. Con il lancio della piattaforma Valesus, Riso ha fatto un ulteriore salto in avanti. Che tipo di attrezzatura è? Che tipo di piattaforma è e a quale clientela si rivolge? Valesus per il suo concetto di produttività che arriva a 320 fogli stampati al minuto ha una collocazione estremamente verticale. gestita da un unico RIP, quindi non ho possibilità di scelte, un RIP prodotto da un'azienda francese che si occupa prevalentemente della gestione di stampa transazionale, quindi il mercato di riferimento è esclusivamente quello. stampa a foglio ad alta produttività in ambito transazionale, che poi nel transazionale possiamo trovare la comunicazione mailing piuttosto che la bollettazione o la fatturazione. Questo è un discorso. non la vedo collocata in ambienti simili a dove abbiamo collocato tutte le comcolor, dove la stampa, grazie alla trasversalità delle applicazioni, può abbracciare diversi tipi di produzione. Se puoi svelarceli, quali sono i prossimi obiettivi di sviluppo della vostra tecnologia, della tecnologia di riso? Andrete per esempio più nella direzione di maggior qualità, maggior produttività, formati più ampi? periodicamente con il lancio di nuove famiglie di prodotti, tutti accomunati dal concetto comcolor, la corporation o la parte che si occupa di ricerca e sviluppo tende ad andare ad incrementare quelle che sono le caratteristiche di produttività, quindi una delle indicazioni è la velocità e nel contempo l'aumento della qualità. Nel nostro caso l'aumento della qualità è sempre dedicato alla ricerca e sviluppo di nuovi inchiostri, quindi nuovi pigmenti che consentono di ampliare quello che di fatto è il gamut dei colori riproducibili e per noi è un incremento qualitativo. Per quest'anno sono previsti due lanci importanti, una nuova famiglia e un prodotto a sé, non ti svelo niente per il momento. La famiglia nuova di stampanti che arriverà avrà al proprio interno l'incremento dei due punti che ti dicevo poc'anzi, produttività e qualità. Grazie Massimo per il tuo tempo, grazie per avermi accolto in Risograph. Grazie a te per il tempo che mi hai dedicato. Grazie a te per il tempo. Grazie a te per il tempo.